Benvenuti a V-Giappone, qui con Spinacio e Elena, e pure Elena Monogatari. Ricordate di passare a Elena Monogatari. Che puntata è? Una puntata completamente a caso. La puntata estiva. La puntata dell'estate, quindi adesso ci andiamo in giro. Spinacio e Elena stanno bevendo una birra austriaca. Original German beer. Guarda che stile, Spinacio. Un negozio di sake, molto molto stiloso, molto elegante. Zao, Kenko Ichi, Hitakami, Akura Katsui. Ragazzi, noi li conosciamo tutti, ce li siamo bevuti tutti. Magari non in queste forme. Per dire, Zao Inspiration forse l'ho incontrato una volta, però gli altri bene o male, le avete anche visti a V-Giappone varie volte, quindi è bellissimo negozio. Continuiamo, vediamo che troviamo. Intanto c'è Elena. Guardate che bello. Mai visto questo? Eh? Figo, eh. Bello. Ma li compri o sono quelli della... L'hotel, perché quando piove. Bello questo. Bello. Oggi, ragazzi, scopriremo tante cose nuove, secondo me. Sai, Spinà? Ecco, ora potete vedere la prima volta il video a Kuro Neko Yamato, che loro vanno in giro per la città a portare pacchi. Così. Non l'avete mai visto, ora l'avete visto. Ma è come portare i gatti, cioè i cani a giro. Esatto. Loro portano i pacchi. Lo sai che qua a Spinacio? Sì. Prima che tu... No, quando ti ascesse, in verità no, perché siamo andati insieme. Qui c'era la... La casetta, la stanzetta che mi ero preso. Ex casa tu. La prima ex casa. Il primo mese che sono tornato nel 2015. Stava una di quelle finestre. Costava parecchio. E la cosa più allucinante, perché una volta che sono entrato là, ho scoperto dopo che non si apriva la finestra. Come mai? Cioè, una cosa bruttissima. Queste sono di quelle cose... Ma non è quello, è che te devi sapere perché non le facevano aprire. Che prende, per non far buttare la gente. Di sotto, immagino, non lo so. Spinacio, hai sete? Certo. Oltre alla birra, vuoi un bel... Guardate, guardate. Cosa potrebbe essere? Vediamo, zoomiamo un po'... Non so leggere. Oh, c'è del pesce. Oh. E qui c'è invece del kombu. E anche del pesce. Sì, è più a pesce kombu. Do not drink. This is a soup stop. E lo sai qual è la cosa bella? Che ora c'è scritto soup stop. Ok. Ma all'inizio, che si parla di qualche anno fa, c'è, this is a dashi. Dashi, esatto, è vero. Perché dashi... Cioè, se te sai leggere il giapponese, sai cos'è dashi, ma se te non sai cos'è dashi, leggi scritto, this is a dashi. Sì, hanno cambiato, è vero. È vero. Spinacio, riusciremo ad andare avanti con questo video dentro ai Beans? Non lo sappiamo, speriamo che sì. Guardate che belle action figure. Guardate di Naruto, ancora Naruto se la spigna, guardate queste... Figure di azione. 7560 yen, però dai, neanche tantissimo per questo livello di dettagli, insomma, possiamo dire. E poi tutti i vari Gundam e anche Eva, che sta... Bello questo, 24.000. 200 yen, ma è bellissimo, però. È molto, molto bello questo Eva. Cioè, io non sono abituato a questa roba, quindi non so mai se è tanto... Cioè, a me è piccino, però molto, molto... Però c'è anche lo stand, dai, c'è... Guarda anche il Keroro Kunso, belli i robot di Keroro. Ma quelli sono veri oppure sono veri? Sono veri, sono veri. Cioè... Esiste una cosa. E poi, ecco, un angolo... Speriamo, secondo te come va a finire Spinacio? Allora, io non voglio di niente perché... Tokyo 2020, official shop. Questa te l'avrebbe comprato? Ah, perché poi dopo prende valore... Dici? E te lo... Le olimpiadi perdute. Dicci la tua sulle olimpiadi, mentre vediamo i... Bisogna, secondo me... Il gadget. Dicono che le faranno nel 2021. Sì. Io spero tanto le faccio nel 2013, che è un po' una cosa così. Però dipende, secondo me, se riesco a trovare il vaccino, ci si fa, se no, mi sa che rislitta. Guardate lo yukata. Guardate lo yukata, intanto, che bello delle olimpiadi. Quello avrebbe venduto tantissimo. Ah, bellino. Quello avrebbe venduto tantissimo, eh. È l'unico modo per fare sembrare che questo logo sia bello. Ah, sì? No? Sembrano dei fiori, sembra dei fiori. Guardate, guardate, le mascotte, dove sono le mascotte? Mascotte? Le mascotte, vedi, vabbè, ci sta questa. E queste belle, ci sta i mascotte. Vabbè, carine, ma un po' un po'... Possiamo delle cose per bambini. Ma questa è per bambini, lei? Sì, sì, queste sono le puricure. Ah, sì? Eh sì, sono le puricure, puricure. Sarà bello, vedi? Le puricure. Le puricure, che c'era anche in Italia, le facevano sulla Rai. Ricordiamo. Bella, bella, questa è la... Eh? Kimetsu Noyaiba, che va alla grande. Continua ad andare alla grande. Tutto Kimetsuato. Pure qua, cioè, guardate il merchandising di Kimetsu. E questo è un tipo di anime di quelli che gli guardano, che vengono visti anche da gente che non gli guardano gli anime. E probabilmente... Eh, sì, sì, sì. E anche io ho visto. Addirittura Elena. Tipo Elena Canaco, gente che gli anime... Non li guarda. Secondo no, non è che ci ragiona degli anime. Però potrebbe essere uno di quegli anime che poi, una volta finito, dopo due anni non si ricorda più nessuno. Te l'età ti è piaciuto? Chi mezzo? Ho visto solo un paio di puntate. Eh, vabbè. E vediamo, vediamo. Continuiamo questo giro, andiamo sopra? Che ne dite? Eh? Sì? Spinacio, Spinacio, vieni con me Spinacio. Guarda questo negozio di memorabilia. Oh! Eh? Che c'ha tutte le memorabilia del Rakuten, quindi del baseball, della squadra qua di Sendai. Ma c'ha anche tutte le foto delle varie idol. Non firmate, chi lo sa? Non sappiamo. Ma forse da qua possiamo stare con molta calma. Quanto viene una foto? 400 yen. Anche di più. Anche di più. Ciao mamma. Ciao ciao. E qua, Spinacio, c'è la zona dei gachapon. Con tutte cose. A caso. A caso. Tipo questo che era il gachapon dello stimolatore, quello elettrico per i muscoli. Ma mattinando solo lo stimolatore c'è pure i bimbo c'è? Credo sia soltanto lo stimolatore. Guarda che stanno tutti gli Avengers. Ecco Eva che torna prepotente. 125 millimetri. Eh infatti grosso e costa pure 500 yen. Questo è molto figo. Guarda. La tartaruga che esce fuori dal guscio e orienta. Grazie. Molto carina. Bello questo di Dragon Ball che volano. Niente male. Noi Disney Tarot. Sempre vere, vere. E Kimetsu no yaiba. Vedi che si attaccano. I Kimetsu piccolini. Si attaccano ai fili. Ah Jojo carina pure questa. Guarda. Carina, super deforme. E questi sono molto bellini piccolini. per non prendere spazio. Kimetsu finito. L'hanno venduto tutti. Carino. Mago pancione. Guarda si torna. È un Mago pancione. È questo. Non conosci? Action Dye Maho. No? Action Dye Maho. È bello. È bello. È bello. È storico. Rifatto però. E poi Conan. Stanno le scatolette. A forma di scatolette di roba. Niente male. Niente male. I cose. Stanno nelle mutande per cosa? Per i fazzoletti. Per i fazzoletti per altre cose. Niente male. Oh gli animali da Yakuza. Eccolo. Finito Jojo. Jojo pure finito. Tu lo sai Spinaccio. Mi vedete bene che i Binz prendono l'Akihabara di Sendai. Tutto dentro un palazzo. Infatti qua vedete stanno i cosplay perché c'è il negozio di stoffe. Bello. Che confeziona volendo anche i cosplay. E chi c'è là? Chi troviamo là? Tra i copi e i Terri. Qual è il cosplay più gettonato del periodo? Chi mette su noi hai? Beh eccolo. Ovviamente. Eccola qua. Io Spinaccio ce lo vedo steampunk però. Con questo cappello. Se non mi metti un coso e mi metti l'occhiale steampunk. Ci sta. Con il capello ce l'hai. I gruzzoli. Eh Lenina si mette questi. Uno di questi due completi. E te che ti metti? Io mi vesto. Vediamo un po' se c'è qualcosa. Steampunk anche per me. E Lenina questo ce lo vedo però. Mi chiede di Bride. Un po' d'esatto. Un personaggio. Qua Spinaccio noi conosciamo bene qua. Perché ti danno il ticchetto gratis. E fai infili e giochi. Abbiamo vinto anche varie volte. Sì un monte di plastiquine che poi non sai non mettere però l'abbiamo vinta e gratis. E niente pare. Prima c'erano le ragazze in cosplay. Ora ti regalavano le cose. Qua invece è diventata la zona fighetta. Ma che figo è. Molto lounge. Roof to top garden. E andiamo a vedere. Siamo andati. Ma certo. Non ci prega tanto ma regalavano. Oh grazie. Oh sanitarizziamo. Sanitarizziamo. Per favore Lorenzo non ne ha presa una di mano. Vai. Sanitarizzati. Vai per favore. Guarda che figato. Bello. Fico. Oh figo. Qui sembra di fare la peridiva. Sembra di stare in Europa. A Milano. Bevi Milano. No. Bello bello ci piace. È una birgarden. Ah guadagnato. E qui è migliorato tanto. Ti ricorda Grato di questo? No. È l'aspiraccio ti ricordi? Non era qui. Non era qui. Era qui però è tu. Lui è il box. Ho chiesto se possiamo fare un altro video però bisogna organizzare di nuovo la tarantella. Se non vi ricordate la puntata ve la lascio. Bel video. Bel video. Con queste che non si potevano riprendere alcune. Invece qua c'è HMQ che è un negozio di dischi di musica molto... Cioè credo sia inglese ma in Giappone comunque è insieme a Tower Records è uno dei più famosi. Elena è una grande fan degli idol maschili. E anche del J-pop. E quindi è il sogno tuo. Fa il mio pop. E Kimetsu noiaipa. Questa puntata è Kimetsu noiaipa. È uno spin off di Kimetsu noiaipa. Però è sempre figo il box eh. Guarda che figato guarda. Guarda questa è ignorantissima. È bellissima. Però non ha prezzo. È incredibile. È bellissimo. Guarda guarda un freezer anche carino. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. Questi sono fatti bene. Sì sì. Non come quelli di prima. Questi hanno... Altri livelli. Altri livelli. Questi sono professionali. Sono fatti a mano. È capito. Elena pure grande fan. Sono tutti a casa. Tutti ce l'hai eh. Ma questi sono di che nazionalità sono? Cioè il K-pop va di moda. Eh sì questi sono K-pop. Va molto di moda. Vedi vedi. Infatti vedi. Questi saranno i giapponesi. Ne verrà più giapponesi loro. Però diciamolo che il K-pop sta avendo una grande influenza. Sì. Sì. Sulla musica giapponese. Ma guarda tantissime ragazze sono infissate. Sì sì sì. Con c'è anche la fidanzata del mio amico che ha il K-pop e quindi tutto. Lei fa di oh dai ora andiamo in Corea. Andiamo in Corea. Sì sì. Ora intanto c'è una di quelle Kankore. Kankai Collection no? Sì. Che sembra una parolaccia ma non è vero. Sì. E chi è messo magari. Per non sapere né leggere né scrivere siamo andati a un sushi a rollo. E' arrivato finalmente il sushi di Elena che è una gafonata incredibile. Come arriva ce lo spieghi. Intanto abbiamo... Eccolo arriva. Eccolo. 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 Il sushi di Elena. E' proprio una cosa da gai. Che cos'è? E' insalata di... Di tonno, maionese e insalata. Che gafonata. Gafonata. Maionese e santa. Casarigiro anche quindi la zuppetta di... Di ombole. Buono. Buono. Te kamaki, classico, come questo... Negitoro. E si mangia. Buon appetito. Ah! Che è arrivato. E' roba mia. Ho caito il taco. Barbaro. Bello eh. Che in Giappone chiedono sempre. Ma ve lo mangiate in Italia il taco? Il... Il polpo? Sì. Per fare compagnia di Elena ho preso pure una bella caponata. Eh? Una tempura di ebi di gambero con sopra maionese da salsa dolce del tare. Ok? Delicatissimo. Mentre la situazione sta sfuggendo di mano. Completamente. Completamente. Terribile. Non sappiamo più chi è di cosa così. Tocca finalmente qua un attimo... Cioè fa vedere la differenza tra unagi e anago. Questa è l'anago. Quindi eh... Di mare. Anguilla di mare. E questa è l'unagi. Che è quella... Anguilla... De lago. Insomma l'acqua dolce. Vedete questa è tanta grassa. Proprio grassa. Cicciotta. Bella. Bella. Con un sacco di eh... Omega 3. Questa invece la vedete è più secca. Non c'ha grasso. Eh? Questa è piccola l'anago come animale. Questa è un bel capitolo. Si vede, si capisce anche ad occhio la differenza eh. Top. E quello è un toro salone. Un toro salone. Il toro che è la parte grassa. Combattiamo spese. Abbiamo finito. Facciamo uno score finale della situazione. Io ho preso quanti? Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici piattini per me. Spinacio? Otto. Otto. Quattro, va bene. Ah, più la zuppa pure... Più la zuppa pure... Poi io l'ho preso. Per tu e lei a quattro. Delicata lei niente. Però c'è il dolcino. C'è il dolcino. Fuori dalla catalana. Lei ne è venuto anche ieri. Ha mangiato. Non è che può mangiare tutti. Esatto. Cioè, a giorni alterni. Stai a casa. Eh, vedete no? Quanto grasso ha messo su. In questa quarantena. Per chi volesse sapere il nome di suo ristorante, c'è scritto qui. Di rinotto Coupe. Neanche devo mettere la scrittina perché è già tutto qua. Oh, guarda se è andata quanto è bella il tramonto, eh? Che stanno costruendo un'altra parte della stazione. Loft. Loft. Parco 2, ricordiamo, eh? Parco 2. Ed è qui. E questo era i Bings. E quindi questa era la puntata estiva. Un po' filler. Per farvi passare un pomeriggio insieme a noi. Spasso Percentage. Però vi sia piaciuta. Ricordate di passare da Elena Monogatari. Ragazzi, facciamo arrivare a Elena Monogatari. Mille iscritti. Ma di più. Di più. Prima mille e poi di più. Prima mille e non più mille. Esatto. Spinaccio tutti vogliamo vedere. Se non te non ci hai vibrato social. Non ce l'ho però. Però. Andate. Cioè, Elena. Elena, mi raccomando. Mi raccomando. Mi raccomando. Mi raccomando. Iscrivetevi, condividete, commentate. Andate sul mio Instagram. E a frappè. Buona estate, ragazzi. Ciao, ciao. 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 Ciao.